benvenuta e benvenuto in consapevolmente connessi oggi voglio parlarti di nove errori che stai commettendo nella tua comunicazione online oggi siamo qui dunque per parlare di comunicazione o meglio di comunicazione che passione e di quali errori commettiamo quando creiamo i nostri contenuti online vogliamo migliorare le nostre skills partiamo da questi dati oltre il 90 per cento dei miei corsisti dopo avere affrontato questo focus si sono resi conto che commettevano il 70 per cento di questi errori ma siamo qui per migliorare le nostre competenze e fare upskilling e dunque quello che voglio anticiparti è che per ogni problema esiste una o più soluzioni e oggi con il metodo consapevolmente connessi ti voglio ricordare che lo possiamo fare attraverso il cst ovvero chiediti scrivi e che trasforma in contenuti efficaci tutto ciò che hai pensato costruito immaginato i nove errori che stai commettendo nella comunicazione online si presentano in maniera assolutamente non non gerarchica non organizzata non con un ordine sequenziale quindi puoi leggerli dall'1 al 3 passando per i 7 partendo dal 9 o come meglio credi sono esattamente questi 9 che ho identificato come i principali errori del perché non funziona la nostra comunicazione online o perché uno di questi lo stiamo commettendo partiamo dal perché mi sono concentrata troppo sulle vendite perché ho dato troppi consigli e nessuna call to action perché era tutto impersonale e senza valori perché puntavo sul prodotto ma non mettevo la mia unicità perché non seguivo una narrazione poi anche perché non dedicavo il tempo necessario perché non parlavo al mio target perché non avevo identificato correttamente gli obiettivi giusti e poi perché non partivo dal business plan cosa posso fare ad ognuna di queste voci daremo una soluzione attraverso tre momenti ovvero chiediti fatti sempre la domanda giusta scrivi ovvero scrivi di getto le idee i pensieri e le emozioni e trasforma quindi agisci fai succedere un'azione e trasforma dunque queste idee pensieri ed emozioni in contenuti efficaci per raggiungere un obiettivo e non dimenticare naturalmente di chiamare poi all'azione anche il tuo pubblico ma torniamo un attimo indietro e proviamo a riflettere su questi aspetti partiamo dal perché mi sono concentrata troppo sulle vendite e quindi perché non funziona ogni volta che hai qualcosa da vendere posti ma la tua community non cresce non stai dando le motivazioni al tuo target per seguirti non stai raccontando nulla del tuo prodotto o servizio non stai condividendo i valori in cui credi e quindi dandogli la motivazione corretta per poi acquistare il prodotto servizio poi posti solo quando hai novità o qualcosa di bello di interessante secondo te da raccontare perché comunque ti gratifica ma tutto ciò non permette la fidelizzazione attenzione che le vendite sono uno dei topic degli argomenti che devi affrontare però devono occupare il 20 25 per cento dei tuoi contenuti un secondo perché perché ho dato troppi consigli e nessuna call to action può essere l'opposto ma attenzione che questi errori si possono commettere anche insieme ti piace offrire consigli sentirti utile condividere ciò che conosci il punto è che non converti e il consiglio non si trasforma poi in una vendita ciò che ti permette di influenzare l'azione del tuo cliente interlocutore è proprio la call to action la chiamata all'azione che tu inviti a compiere quindi l'errore sta nel non inserire la call to action nei tuoi contenuti attenzione che non è facoltativo ma necessario e dunque il tuo contenuto se non ha un obiettivo chiaro e definito non può avere un'azione le call to action devono essere presenti nel cento per cento dei contenuti il terzo perché non funziona è perché era tutto impersonale e dunque senza valori quindi legato anche a quello che abbiamo già visto non ti racconti mai non parli mai della passione che hai per il tuo lavoro non coinvolge con aneddoti esperienze e non presenti i tuoi valori ma tutto questo si traduce in dati e noi li vediamo perché sono visite fugaci acquisti saltuari e poco seguito farsi conoscere attenzione che non è né semplice né veloce ma soprattutto ti porta ad esporti parliamo di esposizione mediatica e questo implica metterci in discussione il punto è che per seguirti serve avere elementi in comune valori esperienze interessi e passioni non seguono te in quanto tale essere astratto da ma seguono il legame che tu hai generato con il tuo lavoro con il tuo brand e dove queste persone si rispecchiano quindi le persone si affezionano a quel legame attenzione perché c'è una grande differenza e mi raccomando grandi riflessioni sui rischi perché perché dietro a questa superficialità che a volte possiamo mettere nel non ritenere il legame il nostro centro il nostro focus rischiamo delle crisi reputazionali o delle crisi anche social mediatiche 4 perché non funziona perché puntavo sul prodotto ma non mettevo la mia unicità in quanti vendono il tuo stesso prodotto o servizio ora tu mi dirai ma non è lo stesso perché come lo faccio io è diverso già concordo pienamente con te ma il punto è che nelle tue narrazioni non lo fai mai emergere e attenzione quando descrivi il prodotto questo addirittura lo fai diventare un prezzo un costo e la domanda che ti pongono è quanto costa stai rischiando quindi di invitare il tuo cliente a cercare poi il prezzo inferiore lo trovo ad un costo inferiore ma come diciamo sempre non lo condividiamo quasi mai siamo noi a creare il valore di quel prodotto attorno al quale personalizziamo l'esperienza e dunque il valore e non il costo è l'esperienza e non il prodotto in sé fine a se stesso e noi ne siamo parte parte fondamentale dunque ecco perché tu devi trasmettere questo valore questa percezione 5 perché non funziona perché non seguivo una narrazione posti ogni volta che hai tempo crei il contenuto ogni volta che pensi di avere una novità e ancora ne abbiamo già parlato vedete che sono tutti errori concatenati tra di loro non ti sei prefissato un numero di contenuti da realizzare non hai una visione di insieme di ciò che racconterai nei prossimi sei mesi ma pretendi che il tuo cliente ti segua in una storia senza trama sarebbe come se le pagine di un libro ci venissero presentate in ordine casuale e magari arrangiate tra un romanzo delle poesie saggistica senza nessuna connessione tra di loro e adesso chiediti ti coinvolgerebbe errore numero 6 perché non funziona perché non dedicavo il tempo necessario vuoi fare business online vuoi sfruttare il web per migliorare le tue vendite e per farti conoscere di più ma non hai tempo i ritagli di tempo sono per gli hobby il tempo che serve è invece per il lavoro la famiglia gli amici e anche gli hobby nell'ordine però di priorità che ciascuno di noi da a ciascuna delle voci che abbiamo visto il punto è che se non usi il tempo necessario per raggiungere i tuoi obiettivi business lo stai perdendo tu e lo stai facendo perdere anche al tuo pubblico quindi abbiamo una doppia perdita di tempo inizia a costruire gli slot di tempo necessari per progettare pianificare programmare e goderti i risultati 7 perché non funziona tutto parte da qui dagli obiettivi se non ho chiari questi allora tutta la mia strategia rischia di essere davvero inefficace attenzione però che obiettivi chiari non significa qualcosa di generico intangibile voglio vendere di più deve diventare qualcosa di concreto e numerabile voglio migliorare le vendite del 20 per cento nei prossimi sei mesi il punto è questo il mio obiettivo è un budget una percentuale un numero un dato da cui partire e su cui porre poi i miei obiettivi di crescita concreti e naturalmente sostenibili con un piccolo sforzo in più e qui ci colleghiamo a ancora una volta errori a catena il famoso effetto domino che non ci permette di vincere le sfide partiamo dal business plan per modificare il nostro mindset perché perché se pensiamo che i contenuti generici ci possano far guadagnare siamo veramente in errore ma andiamo avanti e proseguiamo con gli ultimi due punti perché non funziona otto perché non parlavo al mio target voler parlare a tutti significa non parlare bene con nessuno questo è il concetto fondamentale sul quale dobbiamo ragionare l'errore comune è sul web ci sono tutti e dunque ho più possibilità ma il punto è che per avere possibilità ti devi concentrare su una nicchia il web funziona a cerchie da allargare costantemente quindi si parte da un piccolo cerchio nicchia lo si rafforza e si allarga poi si rafforza questo secondo cerchio e si allarga per proseguire così costantemente coinvolgo un pubblico più ampio e non mi dimentico ma rafforzo il mio pubblico fidelizzato il punto è che commettiamo sempre due errori voler parlare a tutti e tentare sempre e solo di allargare rischiando però di perdere chi si è già acquisito ultimo 9 perché non funziona perché non partivo dal business plan lo abbiamo menzionato prima ultimo ma non ultimo siamo solo andati a evidenziare gli errori il business plan erroneamente si pensa ai contenuti come sola creatività la creatività si serve per catturare l'attenzione si serve per mantenere l'attenzione in maniera coinvolgente su un contenuto efficace e utile in grado di raggiungere obiettivi numerici ricordati che anche raggiungere più persone e guadagnare il loro follow significa numeri strategie vincenti e comunicazione vincente ovvero attiro l'attenzione mantengo l'attenzione contribuisco alla crescita del mio target e chiedo di compiere un'azione e questa viene fatta ma attraverso un processo un processo dove io riesco ad acquisire fiducia non è in diretta non è tempestivo è un processo che deve creare una fidelizzazione e per essere efficace ho bisogno di questi tre passaggi sempre ma se alla base del mio progetto e ovviamente siamo qui per migliorare e per vendere di più nel web per farci notare e o allargare la nostra cerchia ma con un obiettivo economico perché torniamo sempre a quello voglio più follower per monetizzare allora ho bisogno assolutamente di un business plan abbiamo iniziato questo breve percorso insieme per migliorare le nostre competenze e per fare upskilling dunque se spero tu stai iniziando oggi hai a disposizione delle informazioni che ti faranno risparmiare tanto tempo e tante delusioni se invece stai già gestendo il tuo business online e la tua comunicazione online mi raccomando prendi questi errori e questi concetti e inizia a sviluppare la tua nuova strategia quindi rifletti e mi raccomando compi tutte le azioni che sono necessarie questo podcast avrà un video di approfondimento che naturalmente ti invito a richiedere su info chiocciola netlife srl.com è un video gratuito dove ti mostrerò 40 slide con tutte le risoluzioni attraverso il metodo di cui abbiamo parlato prima step by step ad ogni problema come esercitarti per risolverlo e soprattutto gli esercizi necessari e chiave che ti porteranno a risolvere questi problemi quindi non dimenticare di richiedere l'accesso al webinar gratuito al quale tu potrai accedere ogni volta che vorrai e avrai a disposizione all'interno di quel webinar tutte le slide che andrò ad affrontare momento per momento dal problema alla soluzione ti aspetto e naturalmente aspetto la tua richiesta per visualizzare il video ciao a presto